Come vede il futuro della sua professione, il suo futuro ora che si affaccia nel mercato del lavoro e questa nuova attività? Per adesso diciamo che è un po' nero perché la situazione di crisi, diciamo che nel mio ambito non dà molto spazio, però spero sicuramente che nel futuro di poter sviluppare e svolgere il lavoro per cui ho studiato. Quali sono le problematiche che intende affrontare nella professione? Quali sono i temi che più le stanno a cuore? Beh sicuramente l'innovazione, la sperimentazione che adesso è un campo che si va da tanto e che la mia professione può dare ancora. E quali sono le difficoltà, se ci sono difficoltà per un giovane professionista oggi nel mercato del lavoro? Beh sicuramente innanzitutto è proprio il lavoro dove l'inserimento, dato che non è un periodo semplice e poi l'esperienza che noi giovani ce la dobbiamo sicuramente fare in qualche modo e ce la devo dare anche modo di farcela fare.